Siamo usciti, abbiamo visto la polizia e abbiamo chiesto, ci hanno detto un omicidio. Abbiamo preso tanta paura perché non ci siamo accorti di niente e l'abbiamo visto lì vicino al nostro cancello. Era riverso per terra nella scorrina lì vicino. Fino a luna stanotte era rimasto lì, riverso per terra, perché hanno fatto tutte le indagini. Poi Maria le domanda, un omicidio. E' il cane nostro che abbaiava la disperazione. Abbiamo preso tanta paura perché non ci siamo accorti di niente e l'abbiamo visto lì vicino al nostro cancello. Era riverso per terra nella scorrina lì vicino. Non siamo niente, non abbiamo sentito niente noi. Solo il cane nostro che abbaiava la disperazione e ci ha segnalato che c'erano delle cose che non andavano. Siamo usciti, abbiamo visto la polizia e abbiamo chiesto, ci hanno detto un omicidio. Hanno messo lì le cose, le transenne, hanno messo le transenne vicino al nostro cancello perché non passare nessuno, ci hanno mandato in casa perché era proprio vicino lì a noi. Fino a luna stanotte era rimasto lì, riverso per terra perché hanno fatto tutte le indagini che dovevano avere fatte. Ma la notte è stata bianca perché la paura è stata tanta. Beh, vada, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Non so se sei venuto a chiamare aiuto, se soffiare l'acqua con il palino, non c'è niente. Non so se sei venuto, non c'è niente, non c'è niente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.